questa casa non è un albergo ovvero la mia vita da host la sentite anche voi questa rietta sta per tornare quel periodo dell'anno in cui la natura si risveglia tutta come anche gli ormoni e le allergie le giornate si allungano la voglia di fare le cose aumenta anche quella di dormire e tornano anche i guest come le rondini dopo il periodo di bassa stagione e anche loro in fondo sono un po come gli amori ci sono quelli belli che ti lasciano un buon ricordo quelli impossibili tipo gli overbooking quelli proprio tossici le toccate fughe e se si è fortunati qualche colpo di fulmine in sette anni di attività infatti nel via vai di turisti quelli che si fermano poco non creano problemi e se ne vanno soddisfatti io me li sono completamente dimenticati sono come quegli episodi di una sera in cui alla fine non ti scambi neanche il numero di telefono tipo una volta ero andata a smaltire la tristezza per una fine di una storia da mio fratello che vive da anni a londra la sera prima di ripartire per napoli mi ritrovai un po contro voglia perché l'aereo la mattina dopo era abbastanza presto in uno di quei fichissimi club che ci sono lì quelli dove senti il pavimento attaccaticcio sotto le sole delle scarpe anche se non vedi niente perché tutto scuro musica bella il giorno dopo avevo l'aereo ma a quel punto chi se ne importa faccio notte c'avevo un tatuaggio nuovo appena fatto e c'era andata apposta per distrarmi insomma ho finito la serata arravogliata nel bagno col giovanissimo drink manager del locale che mi aveva guardata tutto il tempo e continuava a offrirmi cicchetti che per quanto costa l'alcol a londra era l'equivalente di un corteggiamento con cena forse anche due non so in che stato sono riuscita a imbarcarmi per tornare ma l'umore era nettamente migliorato ovviamente il giorno dopo anche volendolo ricercare non mi ricordavo neanche bene la faccia figuriamoci il nome ecco coi turisti di passaggio è un po la stessa cosa nella maggior parte dei casi non resta neanche un vago ricordo mentre stampati in mente rimangono forever gli psycho come li chiama la mia cara amica e cioè quelli che provocano danni con cui di solito è difficile chiudere e che lasciano macerie dietro di loro tipo la coppia di giapponesi che chiamerò furio e magda per l'amor di dio fermati però giapponesi lui aveva preventivato tutto nei minimi dettagli scrivendomi mesi prima certi papielli in inglese dove dettagliava il programma di ogni giorno poi faceva mille domande tra logistica e sicurezza perché girava con una macchina fotografica costosa ed era preoccupato the same old story e meno male meno male che non gliel'hanno rubata davvero come al tedesco che è venuto dopo e che era molto più accomodante di lui a cui hanno proprio sfondato il finestrino perché era andato a pompei in auto poverino furio e magda giappo invece dovevano rimanere solo cinque giorni poi si sono dovuti fermare di più ma io ho avuto gli strascichi per dei mesi esattamente come le storie d'amore tossiche già strani appena arrivano perché mentre lui si sistema metodico alle sue cose lei in disparte e timida mi chiede un secondo mazzo di chiavi perché voleva visitare dei posti che non erano previsti nel piano del marito quando lui avrebbe riposato lei sarebbe andata la scoperta del centro storico si sta giustificando con me io gli consegno il mazzo di chiavi e me ne vado intanto uno sciopero gli cancella il volo di ritorno io mi mortifico come se fosse colpa mia italiani fancazzisti lui prova a sentire la sua compagna aerea ma non conclude niente era il periodo del fallimento dell'aeroporto di capodichino e loro che ne potevano sapere degli scioperi mi chiede aiuto e io ci provo come sempre e lo mando all'agenzia di viaggi più vicina lui compra altri biglietti costosissimi e slittano la partenza ma intanto a lui è tornato il mal di denti mi spiega che avrebbe dovuto fare un intervento il giorno dopo il rientro ma l'appuntamento così gli sarebbe saltato e mi chiede l'indirizzo di un non ce la faccio più io gli consiglio di aspettare di andare dal suo una volta rientrato ma lui non ne vuole sapere alla fine gli cerco il numero di uno studio dentistico lì vicino che però non conosco io lo dico in inglese non voglio nessuna responsabilità io se fossi in lui non ci andrei aspetterei di andare dal mio mannaggia la miseria questo è napoletano tanto non capiscono non vedo l'ora che se ne vanno e quasi quasi ci siamo quando la sera prima della partenza verso le 9 lui mi scrive preoccupatissimo di andare lì perché anche la moglie non era rientrata ecco qua penso io si è data è scappata fuggita intanto cerco di rassicurarlo che stare in centro a passeggiare anche se sto pensando alla sua fuga e un po ci spero per lei deve essere un incubo vivere con sto qui massima solidarietà però lui non si calma anzi mi continuo a esaurire che la moglie doveva tornare verso le 7 sono già le 10 e 30 la mattina dopo devono partire lei non risponde al telefono lui è certo che le sia successo qualcosa e chiede a me di accompagnarla a una stazione di polizia per denunciarne la scomparsa mannaggia la miseria stavamo quasi per uscire quando meno male per me meno per lei la donna rincasa quando sono partiti io ho staffato lo spumante ma come da copione dopo neanche un mese mi arriva una mail di lui perché quelli così ci riprovano sempre mi spiega che per il rimborso del biglietto perso per lo sciopero ha bisogno di una ricevuta dell'agenzia di viaggi se gentilmente posso andare io ma questo è matto perché non gli scrive direttamente io lo scrivo penso di essermene liberata e invece dopo sei mesi gli esatti tempi della compulsività mi riscrive per chiedermi se posso andare allo studio medico a quel punto l'ho bloccato perché con le storie così alla fine si arriva sempre a quel punto e chissà se la moglie poi è riuscita a fargli perdere le sue tracce perché sono certa che quella volta ci stava provando in compenso ho avuto alcuni colpi di fulmine tipo l'osto lituano che sembrava tazzo di morte a venezia ma più bello un putto biondo con gli occhi azzurri lineamenti scolpiti una cosa commovente io lo guardavo tipo statua avrà pensato che me lo volevo spupazzare invece io mi ero innocentemente platonicamente innamorata di tutta quella bellezza nordica che a noi del sud risulta esotica altro colpo di fulmine con la biologa marina brasiliana che quando le ho aperto la porta ed entrata tutta sorridente pelle ambrata capelli lunghi e biondi occhi grandi ha fatto vacillare per un attimo la mia eterosessualità cosa che devo ammettere ogni tanto mi succede ma tendo a dimenticarmelo ad esempio l'altra sera passeggiando col mio amico di più vecchia data facevamo un po di amarcord ti ricordi qui ha detto lui c'era quel locale dove una sera ti sei baciata con una io non mi ricordavo assolutamente nulla comunque l'host brasiliana secondo me era bellissima doveva fare un corso universitario di sei mesi voleva cercare un monolocale ma intanto si era stabilita da me per qualche settimana siamo uscite insieme le ho fatto conoscere la città l'ho portata in un paio di posti che mi piacciono e alla fine la casa perfetta per lei io l'ho trovata io il proprietario del monolocale che le avevo presentato sostiene che non fosse poi così wow come dicevo io ma a lui piacciono le morette sfiziose e quella che si è sposato ha pure una cintura nera di judo e una di aikido e quindi se lui dice qualcosa lei può rompere anche le ossicine quindi non fa testo ma io che l'ho avuta intorno per settimane mi sentivo come se stessi condividendo casa con una di quelle modelle tipo giselle vabbè non così esagerata ma insomma era pure simpatica e biologa quando entrava in casa sembrava si accendesse una di quelle lampadine gialle a resistenza che emanano calore stupenda dopo il corso è tornata in brasile ci siamo scambiati contatti facebook ci mettiamo i like veramente è una bella tipa colpo di fulmine più per loro che ancora a distanza di anni mi scrivono gli auguri a natale d'estate mi mandano i video del giardino di casa anche con la coppia di uruguayani troppo simpatici che mentre a colazione provavano a smontarmi il mito dell'ex presidente musica che in effetti se della decrescita felice ne parli che a un povero quello te la sbatte in faccia contemporaneamente però mi offrivano il mate così la tachicardia e l'eccitazione mi pervadevano per tutto il giorno prendendo il sopravvento sulla delusiva realtà se me lo offrivano la sera mi sembrava brutto dire di no e quindi poi la notte non dormivo insomma mi hanno fatto lo stesso effetto di quell'alterazione della mente che risponde al nome di innamoramento e mi continuano ad amare a distanza perché ogni tanto trovo delle recensioni su siti dell'america del sud che solo loro possono avermi scritto insomma prepariamoci per gli host e per i nuovi amori good luck e grazie a giuliano russo per le musiche nel club londinese grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti